Prima domanda, sono dieci domande, vediamo se riusciamo ad arrivare fino alla decima. Allora, per un euro berresti un bicchiere d'acqua di otto once ora? Come le traduciamo otto once? Vado a vedere quante sono. Sono esattamente, ve lo dico in diretta, 0,237 litri. Quindi io metterei di sì e... Ah, c'è pure corretto o sbagliato, ok. Quindi abbiamo preso dieci in questa domanda, dieci non l'ho mai preso in nessuna verifica mai nella vita. E ok, quindi tranquilli, abbiamo guadagnato un euro. Seconda domanda, per dieci euro lasceresti a uno dei tuoi amici staccarti con forza? Uno dei peli del naso, quelli dentro il naso, li chiamiamo peli? Sì, per dieci euro, mettiamo sì. Ah, corretta, ok, abbiamo preso anche dieci in questa. Perfetto, quindi abbiamo guadagnato in totale undici euro. Siamo contenti. Quindi ci siamo fatti staccare un pelo mentre bevevamo un bicchiere d'acqua da 0,2 litri. Per 100 euro, qua si fa già più interessante. Succheresti, e fin qua, da delle mani, delle monete a caso per 5 minuti, per 100 euro? No, mai nella vita. Cioè, non so se avete presente, ma delle monete, succhiare delle monete, o anche leccarle, che schifo già a pensarci che schifo, a parte il sapore che è impensabile. E poi, le malattie, cioè perché le monete vengono passate di mano in mano, casse, tutto, cadono, ma va, vaffanculo, neanche per 100 milioni, facciamo no? Abbiamo perso dieci punti. Ah, vabbè, sta cosa dei punti non ha senso, fatto sta che io non lo farei mai per 100 euro. Quindi per 1000 euro, in un parco deserto, quindi non c'è nessuno, immaginatevi la scena, sei lì davanti a un maiale cresciuto, che è legato, generico, e ti danno un piccolo revolver, vabbè, il tipo di revolver. Gli spareresti? Ora, c'è già da pensarci. 1000 euro. Allora, ragioniamo. La gente uccide i maiali per poi mangiarli. Ovviamente noi gli sparano con le pistole, perché altrimenti sarebbe il proiettile, vabbè, tutte cose, però per 1000 euro, dato che non è illegale, perché qua c'è la premessa che qualsiasi cosa che fai non è illegale, facciamo di no, tanto 1000 euro non ci cambiano la vita, quindi facciamo di no, vabbè, e qua ci dice incorretto, vabbè, non ha senso, continuiamo. Domanda numero 5, siamo a metà. Per 10.000 euro, oh qua, 10.000 euro, in una città vostra scelta, ok, quindi pensate a una città random, nella quale però non sei mai stato prima e nella quale soprattutto non tornerai mai più. Correresti nudo in una strada piena affollata di gente? Verresti visto da centinaia di persone per 10.000 euro sostanzialmente? Oddio, allora. Allora, 10.000 euro per correre nudi e lì dici, però ti metto nei dettagli di una città nostra scelta dove non siamo mai stati e non torneremo mai più. Ovviamente, se vuoi farci tutta la storiellina, c'è da calcolare, eh, ma c'è quello che ti fa la foto, internet, fa... Allora, io metterei, sì, alla fine 10.000 euro. Boom. Numero 6. Allora, per un milione di euro doneresti un rene a una 93enne, la quale è stata, diciamo, arrestata per offese sessuali, ok, quindi è una poco di buono, una 93enne. Allora, per un milione di euro ce lo cacciamo o no il rene? Alla fine si può vivere anche con solo un rene. Un milione di euro, questa qua c'è 93 anni, poi magari ci prendiamo noi un rene... Sì? Io dico di sì. Per 10 milioni di euro, signori, qua si fa la differenza, la vita ti cambia da così a così tanta roba. Mangeresti due blocchi di formaggio, di due pound, o comunque due mega blocconi di formaggio e una manciata di lassativi, poi fai la cacca dentro un bicchiere di vetro pulito, clean, quindi nuovo, e poi, non è ancora finita, bere tramite una cannuccia ancora calda, con un... qualcosa di... che schifo, con... beh, che schifo, comunque berla, che schifo, pur sapendo che tutto ciò sarà filmato e postato su YouTube, ok? Quindi oltre ai 10 milioni ti fai pure i soldi della visualizzazione di YouTube, tiè, quindi doppio guadagno. Allora, signori, qua c'è da pensarci bene, datemi un attimo per pensarci. Ok, l'attimo è finito, è stato poco produttivo. Allora, 10 milioni di euro, tanta roba, eh, perché poi ci puoi fare un casino di roba, o li investi, nel senso proprio con la macchina, no, vabbè, o li investi in qualcosa, li spendi, ci guadagni cose, fai, prendi, togli, vendi, e quindi 10 milioni di euro ti cambiano la vita. Però, finché devi bere dei cosi di formaggio, dici sì, e i lassativi anche, perché alla fine c'è gente che li prende i lassativi e fin lì per 10 milioni di euro lo farei a mani basse. Poi, fare la cacca in un bicchiere, diciamo, di vetro nuovo. Sì, lo farei. Però, arriva il brutto, arriva lo schifo totale, ovvero bere tramite una cannuccia questa piccola diarra... Beh, che schifo, signori, non riesco neanche a dirlo, è incredibile. Cosa fareste voi? Scrivetemelo nei commenti, perché io non lo so, non ne ho idea. Perché la dignità andrebbe a bitches, però i soldi in banca salirebbero. Oddio, non so cosa fare, non so cosa fare, non so cosa fare. No, signori no, non lo farei. Cosa è incorretto, cretino, voglio vedere te che lo bevi, deficiente. Incorretto cosa, cosa, cosa c'è di sbagliato. Allora, per 100 milioni ti viene presentata una foto di una bambina di 6 anni. Perfetto, signori, il test è finito. Cambiamo test. Perfetto, prossimo test. Allora, signori, abbiamo cambiato test, perché quello di prima si stava facendo un po' più spicy, un po' più particolare. Quindi questo qui lo facciamo interessantino, sono 10 domande. No, non è vero, sono molte di più di 10. Sono 20 domande che ce le facciamo e anche voi ditemi cosa fareste. Allora, mangeresti un grande e vivo scarafaggio ogni giorno per il resto della tua vita per 5 milioni di dollari. Questo qui praticamente ogni sì o no, ogni sì ti dà 5 milioni di dollari. Se dici no, niente, quindi sono sommabili. Tra l'altro senza tasse, perfetto. Uno scarafaggio per ogni giorno della tua vita per 5 milioni di dollari. Allora, sinceramente, i scarafaggi si mangiano anche in varie zone del mondo, proprio sono mangiabili, danno delle proteine. Quindi, dopo un po' ti abitui, io direi che per 5 milioni lo farei. Vediamo la gente cosa dice. No way. What? Cioè, 75% non lo farebbe. Il povero 25% lo farebbe. Vabbè, pazzi. Faresti 5 anni in una prigione di massima sicurezza per un crimine che non ha mai fatto, sì. Allora, vi do subito le due ragioni per cui lo farei. Uno, perché guadagnerei 5 milioni di dollari. Quindi è come se facessi un lavoro da un milione di dollari l'anno. Lo fai per 5 anni e poi te ne vai. Cioè, non è che devi star lì per tutta la vita. In più, in prigione, magari vedi anche un po' come l'ambiente, magari ti abitui. Ma vabbè, lasciamo perdere. Poi, faresti la stare in un video di quelli un po' più osè? Sareste la prima cosa che ti esce quando qualcuno googla il tuo nome. No, dai, no, questo no, proprio no. Infatti il 67% no, il primo sì. Cioè, praticamente, tu magari sei la persona più buona del mondo. Fai tutte le cose più belle. Sei bravissimo, bellissimo. Però fai uno di quei filmettini un po' scandalosi. Ed è la prima cosa che la gente esce quando ti trova. Non lo farei, onestamente. Allora, mangeresti un coso di cacca su un piatto bianco con forchette e coltello? Ah, no, no. Oh, ma ste cose della cacca ce l'hanno, eh. Quindi, eh, infatti, 86% no, 14% sì. 47.000 persone un po' strane, un po' ambigue. Ditemi anche voi se siete tra quegli ambigui, va bene, non vi giudicherò, più o meno. Lasceresti? Oddio, questa no, questa non lo farei mai. Praticamente abbandoneresti internet per i prossimi 15 anni, ovviamente sempre per 5 milioni di euro. No, no, signori, impossibile. Il 56% lo farebbe, 44% no. Cioè, c'è più gente che lascerebbe internet di quelli che mangiano la cacca. Vabbè. Numero 6. Accetteresti dei soldi sapendo che una persona a caso nel mondo morirebbe per causa tua. Non lo sapresti mai e non sapresti mai che è successo. Sì, immaginate la situazione. Arriva un tipo e ti dice, oh zio, ti do 5 milioni di dollari. Fine. Eh, basta. Perché poi la domanda impone che tu non sappia che una persona muore. E soprattutto non sai che persona è. Quindi, non siamo qui a fare i moralismi? Sto dando il messaggio sbagliato? Probabilmente sì. Nel dubbio non coglietelo. Io metterei lo farei. 50 e 50, giustamente. Tra l'altro, pari pari. In realtà un po' più, no way, 2000 in più. Però, dettagli minuscoli che non servono. Oh, 5 milioni. Alla fine ne muore di gente per motivi stupidi. Almeno datemi dei soldi. Ascolteresti solo la musica country per il resto della tua vita? Va bene. La gente mette no way, ovvero che non ascolterebbe la musica country per 5 milioni. Invece, mangerebbero la cacca con un coltello e forchetta. Ok, ok gente, ok. La 8 ve l'ho saltata, non vi dico neanche di cosa parla. Proprio ve la salto a mani basse. E non chiedetemelo nei commenti. Mangeresti farina d'avena per tutti e tre i pasti per il resto della tua vita? No. No. In realtà potresti evitare di fare i pasti e mangiare fuori i pasti così mangeresti le merendine. Però ormai abbiamo messo no. Pace pace. Rifaresti le scuole medie o elementari, dipende come lo traduci in italiano. Di nuovo, come un adulto. Sì? Per 5 milioni, quindi vai lì. Ti diverti. Vabbè che sei con i bambini, quindi è un po' strana la situazione. Però comunque, vai lì, rifai le scuole. Che poi dice, rifaresti le scuole. Ma non come alunno. Magari le rifai come insegnante. Vivresti in solitudine per i prossimi 20 anni. Allora, per come lo intendo io, ogni tanto ci stanno dei momenti di riflessione in solitudine. Però per 20 anni. No, dai. Un po' particolare come cosa. Ditemi se voi lo fareste. Io non ci vivrei 20 anni. Qualche orettina. Sì, 20 anni no. Perché diciamo. Abbandoneresti le toilette. Ogni volta che dovresti usare un bagno, te la faresti nei pantaloni. Ovviamente, come ben sapete tutti, i francesi non usano le toilette. Schifosi. Schifosissimi. Però, diciamo che nei pantaloni non se la fanno. Quindi, per essere coerenti, metterei no way. E infatti, dai, che schifo. Ho pensato ogni volta che ve la fate nei pantaloni. Beh, via, via. Taglieresti il tuo dito della mano dominante? No. Il 14% sì. Ok, sarà gente che già non ce l'ha. Ne mancano due. Ti mangeresti il tuo animale? No, no, no. Scappa. Ne manca una, signori. Che domanda era? Via, via, via. Non lo mangerei mai, 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 mai. Non ho un coniglio, altrimenti. Ma comunque. Numero 20. Allora, la domanda numero 20 non ha senso. Nel senso, ti dice. Faresti il lavoro per 30-35 anni. Con un budget rigido. Ma comunque con una buona paga. Comunque uno stipendio interessante. Puoi fare tutti gli investimenti. La pensione te la danno buona. Per 5 milioni di euro. Quindi, praticamente, la domanda è conclusiva. Ti sta dicendo. Tu lavori. Ti fai il tuo lavoro buono. Finché non vai in pensione. Ti prendi la pensione. E in più, ti prendi 5 milioni. Non specifica che lavoro. Dice solo un buon lavoro. Quindi, lo farei. Invece il 25% no. Non vogliono lavorare. Fate schifo. Sfaticati. Quindi, signori. Questo era. Cosa faresti per 5 milioni di dollari. Ovviamente, il primo quiz l'abbiamo accantonato. Per motivi un po' così. Se qualcuno di voi l'ha capito. Scrivetelo nei commenti. Il secondo, molto interessante. Lo potete trovare su BuzzFeed. Carino. Se lo volete fare. Lo volete fare con qualche amico. Ovviamente, in inglese. Magari qualcuno sa l'inglese. Oppure, mi usate come traduttore. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che anche voi abbiate guadagnato. Più di 5 milioni di euro. Che non fanno mai male. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alle 3 con un nuovo video. Ciao. E però, ora mi date i 5 milioni. Ciao. 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 Ciao.